buon pomeriggio ragazzi velocissimamente con il nodo della sintesi come dice il mio dottore andiamo subito a sciogliere le trecce cavalli inter gheddafe 2 a 0 con gol di lukaku per l'inder al primo tempo al 33esimo su assis di bastoni nel secondo tempo rigore sbagliato da molino da molina 76esimo per gli ospiti ericsson entra all'ottanta duesimo per brosovic e segna un minuto dopo l'ottanta treesimo quindi questa volta per l'inter lo stadio di gerson kirk che ne ha portato fortuna e stavo guardando il tabellone sembra che dovrebbe affrontare il bayern leverkusen sempre poi non lo so comunque inter ok ieri sera questa sera però anzi chiede le 21 alle 18 55 la roma quindi speriamo che vinca anche la roma e poi domani la parola passerà alla champions league grazie a tutti ricordiamo di nuovo inter batte gheddafe 2 a 1 e passa ai quarti di finali dell'europa league quindi in quella che sarà le partite finali diciamo in germania mentre la champions ricordiamo credo a lisbona in portogallo bene buon proseguimento alla prossima ciao forza inter alla grande